BOOM! CRYSTAL POWER! EIT! AAAAAAAA! Servo a tutti, shirine e shirine! Benvenuti in una nuova puntata di Shiros Corner! Come ben sapete, questa è la postazione delle Kawee Box, ma questo video inizierà un pochino in maniera differente, perché è iniziato in una maniera disastrosa, in momenti mai una gioia, sfiga assoluta, tristezza infinita. Non so se vi ricordate, ma nei video precedenti, sempre dove è recensivo alle Kawee Box, vi ho un po' comunicato questa mia scelta di lasciare almeno temporaneamente la Kawee Box. E tutti quanti vi hanno parlato della Doki Doki, della Japan Create, allora io sono andato sul sito e ho acquistato una box. Partendo dal fatto che la box in questione l'ho pagata 25€, più 15€ di spese di spedizione perché viene dall'America, diciamo che qua bene o male non ci viene nulla di strano. Il momento mai una gioia, la tristezza assurda, è stato quando, per o male, la settimana scorsa, sono tornato a casa e mia madre fa «Ah, vedi che è arrivato un pacco?» Io... vabbè, per o male non mi ha amministrazione a casa sciura. Sì, però è arrivata la Togana. La Togana. Sì. E io ho pagato... Per la setezza 10,80 euro di Eva e Oneri su questa box Per la serie iniziamo proprio nel peggiore dei modi Ho rimpianto tantissimo per aver abbandonato la Kawee Box Però spero che almeno l'interno, gli oggetti al suo interno Le valgono la pena Cioè nel senso che sono almeno carini Altrimenti io mi butto la polcona Immaginate poi la mia espressione quando ho visto tutto Ho visto la Kawee, la box Così carina, così Kawee La dogana Le peggiori parole che mi sono uscite dalla bocca Diciamo che non è stato un bel momento Però dovevo esternare questo mio disagio Scusatemi per la piccola parentesi Anche se è un video Kawee, un video tutto dolce e carino Però ve lo dovevo dire Anche perché io ho visto anche altri video Della Japan Credit, Doki Doki Nessuno ha pagato la dogana Io sì Ma bando alle ciance Con il mio prodeffido Giacomo Andiamo ad aprire questa box La box è davvero molto carina Molto semplice Tutto come al solito rosa e bianco Ed è molto molto pesante Questa cosa ci piace tantissimo Ma a volte mi sento come un bambino di giorno di Natale Allora Iniziamo subito Allora c'è Doki Doki by Japan Creator Questo dovrebbe essere Della Doki Doki Quella di giugno C'è un piccolo manuale Iper super Kawee Scusate Io ogni tanto largo Faccio vedere a voi Però questa cosa Me la devo struire bene Giacomo a strutturare Invece Ok Forse ci sono Noi lo sanno Non voglio vedere Passiamo subito Guardate Questo è il primo oggetto Non c'è una lista degli oggetti Non lo so Però conti conti per il ciuffo Il ciuffo Il fiocchetto in testa Ma è bellissimo Tu i mini Nooo Ma è bellissimo È in pratica Aspettate Giacomo Avvidami la mano No Snoopy Quante cose ci sono Oddio Ovviamente A me non poteva capitare Qualcosa di sobra Mi è capitato Lo Snoopy Rosa Glitterato È turba Però è troppo carino Anche se Io avrei preferito Quello bianco e nero Normale Qui ci sono Tutti gli altri Però glitterato Fa anche un po' impressione Oh mio dio Che uomo Guardate Poi c'è quest'altro Blush Che è fighissimo Ok Alla c'è Questo che è Alquanto Inquietante Se magari si riesce Ad aprire Non si riesce Ad aprire Ed è Un fiocchetto A fermo al letto Con un occhio all'inno Così Un occhio Mio dio Terribile Inquietante È terribile Perché l'occhio Sembra davvero Vero Soprattutto Irile È terribile Poi C'è Uh Sì Questo Che era Già uscito Una cosa del genere In una Cabo e box Ho scritto anche Tipo lo smollato All'incuota Oh Sì Natale L'avocaloi Io apro Le secondi Oh tipo Il pass Che cosa Carina Quando diventerò Una celebrità Userò il pass Per la serie Porto sfiga Allontanatevi Poi Che cosa C'è C'è Cosa Microscopica Che come al solito Io ho Problemi ad aprire Le cose Apro con i denti Proprio Civiltà Portami via Oh Piccolinissimo Questo è Iper super Kawai Questo ci piace Da morire Poi Oh mio dio Quanta roba C'è ancora Lenta Oh mio dio Che cosa È un batuffolo Questo si chiama Ma è bellissimo Che non ci sono Manco i nomi Io sto aprendo cose Senza sapere i nomi O altro Ovviamente penso Che faranno scritte Sulla cosa Sul Sul libretto Del mio Che cosa Oh mio dio Ma Ma è troppo Puccio Poi Abbiamo Dei bellissimi stickers Che sono Fantastici Un bracciale Una cosa Sobria Proprio Sobrissime Oh Questa è bella Questa è proprio Carina È un bracciale A forma Di Cerniera Lampo Cerniera È carinissima Ovviamente È per Le manine Piccole Per i bracci Piccoli Non per un bracciale Una bellissima Spilla A forma Di un pandino Di panda panda Un attimo Che vi faccio vedere La spilla Ecco qui E infine Abbiamo Questo Bellissimo Dovebbe essere Un asciugamanino O Sì Dovebbe essere Un asciugamanino Piccolo Eccolo qui E abbiamo Finito Abbiamo visto Tutti gli oggetti Di questa Doki Doki Box Devo dire Che Sono rimasto Un po' Basito Cioè Nel senso Mi aspettavo Cose Più carine Più K-Way Più fighe Invece Sì Sicuramente Ci sono più oggetti Aggiuntivi Rispetto Alla K-Way Box Però A livello Di L'uniche cose Che magari Sono più diverse Sono i flash Che sono un po' Di più Ma poi Per il resto Come oggettistica Stiamo lì E ammetto Che Non riesco a capire Questo divario Perché La K-Way Box In circa Sono 18-20 euro Compreso Le spese Perché anzi La K-Way Box Non le fa pagare Le spese Di spedizione Anche se Gli impiega Molto molto Di più Invece Questa 40 euro Ok Ci possono essere Gli snuopi O Gli altri oggetti Però Secondo me Consiglio personale Di chi mastica Una pochina priorità 40 euro È davvero tanto E quindi Magari voi Che siete un pochino Più esperti Di K-Way Box Oggetti K-Way Fatemi sapere Qui sotto Nei commenti Che cosa Viene sembrata Di questa box Se vi è piaciuta Se non vi è piaciuta Soprattutto perché Vi ricordo che Prossimamente Forse settimana prossima Uscirà anche L'ultima K-Way Box Sempre dello stesso mese Quindi sempre di giugno E sarà un bel modo Per No se non sbaglio O maggio di giugno Non mi ricordo bene E sarà un bel modo Per confrontare Queste due box Per vedere realmente Chi può essere Più carino E più no Magari mi aspettavo Sapete cosa Qualche snack All'interno Qualche cosa Di un pochino Più carino Non lo so Non mi ha colpito Sì Non sono entrato proprio Io sono una persona Molto di impatto Non è scattata La scintilla Che è così carina Però Oggettivamente Anche se poi C'è questo occhio qua Davvero Penso che stanotte Non mi farà dormire Per ora è tutto Ma solo per ora Asciora È la Doki Doki Box Vi saluto Non ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao